Buongiorno, sono Giuseppe, Video System Broadcast, un'azienda localizzata a Vicenza, nel Veneto. Sono qui oggi in veste di relatore per una case history alla Crestron University. Nello specifico ho parlato del progetto Microsoft, fatto assieme al vendor Texim, con cui abbiamo fatto l'associazione dell'impresa. È stato un progetto molto interessante dove abbiamo utilizzato tanti prodotti Crestron che andavano dalla Digital Media, prodotto nato per la gestione e la distribuzione dei segnali di video digitali e tutta la parte di gestione e controllo attraverso i touchpad. È stata un'installazione molto impegnativa, poiché i pannelli erano ben 57, dislocate appunto, 57 sale, touchpad da 4,3 da 9 pollici e una Digital Media 32x32.